Auto d'epoca, pezzi di ricambio per macchine, cicli e motocicli e tanto altro. Questo ciò che sarà esposto al nuovo mercatino Mostra Scambio, che giunge alla sua seconda edizione e che si terrà questo fine settimana al Parco Codma di Fano. Un'iniziativa organizzata dal Museo Nazionale del Motociclo di Rimini, con il patrocinio del Comune di Fano. Sabato e domenica, che è 10 e 11, ed è una mostra fra collezionisti di auto e moto d'epoca, che ognuno viene a sporre i suoi mezzi e poi c'è la possibilità di fare scambio, di trovare il pezzo che manca per il restauro e tutte queste cose qua che riguardano il collezionismo. L'organizzatore è il Museo del Motociclo di Rimini, che è un museo privato aperto al pubblico dal 1993. Siamo noi che la organizziamo, è per la passione che abbiamo. È un po' da qui cerchiamo di ricavare qualche soldino per finanziare il museo, perché come sappiamo i musei sono in perdita piena. È solo una passione che noi abbiamo per tenerlo aperto, ma è tutto un costo. Gli spazi espositivi saranno accessibili al prezzo di 5 euro, con orario continuato. Sabato la mostra accoglierà i visitatori dalle ore 9 alle 18, mentre domenica dalle ore 9 alle 17.30. Il biglietto sarà acquistabile all'ingresso. Per maggiori informazioni consultare il sito www.museomotociclo.it. I visitatori ci sono i curiosi che vengono a vedere la mostra come è, mentre invece i collezionisti che gli manca il pezzo per il restauro o vuole cercare di prendersi la prima auto e la prima moto. Grazie a tutti.